Tempo galattico non specificava, una spedizione di scienziati con tecnologia avanzata avevano l'obiettivo di raggiungere il pianeta suo ai confini dell'immensa e classica sfera. Ultima speranza, raccoglio un minerale chiamato oro, fondamentale che ha venuto sui pianeti L'impresa per il riguardo a terprese, i raccoglitori di minerale, spinti dalla fatica e dall'impressi delle condizioni delle miniere, mandarono un delegato al comandante superiore per alleggerire loro incommense. Consapevoli dei loro bisogni di una copra, catturarono alcune creature e un troppo morto, autotto, primi vivi, decisi a creare una razza forte ma nello stesso tempo dolce e ubbidiente. Dopo vari successi genetici arrivarono a mescolare proprio di anni a con le creature. Fu un risultato sorprendente, una creatura con l'implinazione e l'obbedienza e la forte capacità riproduttiva, l'uomo. La creatura, se vuoi dire, era idonea per le loro scopi, ma un giorno si ribellò. Il loro DNA aveva sviluppato nella creatura un qualcosa di sconosciuto, Dio scoprò la consapevolezza di essere. La creatura, se vuoi dire, era idonea per le loro scoprò la consapevolezza di essere. Grazie. 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 Grazie.